Il Consorzio Smaltimento e Rifiuti di Lanciano si è trasformato definitivamente in una società per azioni, la Ecolan S.p.A., ad annunciarlo il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gian Panfilo Tartaglia. Il 23 marzo è terminato il processo di trasformazione in società a totale capitale pubblico, si legge in una nota, un processo che sarebbe dovuto iniziare già nove anni fa. Le difficoltà sono state tante, ma alla fine possiamo dire di aver finalmente voltato pagina e dato solidità e sicurezza ai 53 comuni soci che si servono da noi per il ciclo integrato dei rifiuti. È soprattutto ai sindaci, aggiunge Tartaglia, che va a un particolare ringraziamento dal momento che la trasformazione in S.p.A. è stata possibile solo grazie a loro. Il 28 dicembre scorso l'Assemblea dei Sindaci aveva approvato la trasformazione del Consorzio in società per azioni a maggioranza dopo una seduta particolarmente nervosa. La Ecolan S.p.A., il cui capitale sociale è di 3 milioni di euro interamente versati, si occupa di gestione dei rifiuti nel territorio dei comuni soci e di tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e della gestione dei rifiuti speciali.